avete lavato i panni? sono pronti per essere stesi? e la verdura è in esubero? il mostro cane dov'è? no non siamo diventati pazzi siamo pronti invece per cantare la canzone che arriva ora cioè stendi i panni stendi i panni stendi i panni asciuga il sole asciuga asciuga il sole asciuga chi la vuole la bella verdura chi la vuole la bella verdura bau 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 fido bau 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 fido adesso modifichiamo tutte le vocali e diventano i il vostro cane quindi diventerà un chihuahua perché stringiano i gesti stendi i panni istendi i panni po-bom bau bau sendi i panni istendi i panni po-bom bau 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 ed Grazie a tutti.